Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Tommaso Lefoco e oggi vi porto la sfida dei cori insieme e vi saluti a me, Antonio Cocuzzi, raga iscrivetevi al mio canale Antonio88staccato Cocuzzi Ok ragazzi, abbiatevi tutti, ora ci prepariamo, aspetta, senti da dietro quel coso giallo, questo qui, questo qui, infatti, poi da qua alla macchina di cars e il palo Ora ci prepariamo e ci becchiamo dopo Ok ragazzi, Antonio, dai esci da lì, Antonio sta lì dietro, sono pronto per il tiro Ok ragazzi, la prima parola di Antonio è andata, siamo ancora 0 a 0 Ma tocca a me, lo spacco il culo Ah, chi vuoi spaccarti? Gol Ragazzi, scusate, però c'è il sole negli occhi Eh, raga Infatti, eh, e non si può parare bene Eh, beh, passi che fai così quando ti rilassi Infatti Ok ragazzi, tocca a me, siamo 1 a 0 per Antonio, si arriva a 10 Ah, quando balla la parola si deve ritirà perché Anzi, se hai fatto male prima, ma mi stavamo cazzeggiando un po' Eh, che parola, ma che parola d'ha fatto, ragazzi, che parola d'ha fatto Questo, questo l'ho allenato io Ah, però anche, poi sei vissuto Sono in realtà Non è vero, non mi ha allenato Ok ragazzi, l'ho parata, siamo ancora 1 a 0 per Antonio Perché ho fatto una mitica parata Ok ragazzi, questo, like per questo vuoi Ho pure la parata di Antonio Ragazzi, stiamo aspettando, vai Ok Ok, vai che non c'è Ok, Antonio non ha segnato E siamo ancora risultati di 1 a 0 Forse se il video durerà tanto Arriveremo a 5 Siamo ancora 1 a 0 per anzio 2, è dura Eh, mamma mia, mamma mia, mamma mia 1 a 1 La situazione 1 a 1 Vai Vai Antonio che non c'è E' la parata Ok Ok ragazzi, stiamo 1 a 1 Gol Ok Siamo 2 a 1 Angolino basso Angolino basso Vincidiale Perché nemmeno Marmeloia La prendeva Ok, ora tocca ad Antonio Siamo 2 a 1 per me E' Antonio No Ok ragazzi Antonio ha segnato E stiamo 2 a 2 Lui è attaccante Però Non è molto bravo a tirare di lui Perché Tira di precisione però non di forza Invece E' perché E' perché E' ovvio E' ovvio Che hanno anzio Voglio dire forza Ok ragazzi Ora tocca a me E' il segno 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 Lui è attirato E' il segno Infatti Raga stava andando fuori E' fatto così Ok ragazzi Ora tocca a me Ok se la vado di solo Ok 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 ragazzi Mi fa male il piede E' il rosso Ok stiamo 2 a 2 Goal No Ragazzi Dove lo firma anche la telecamera Giusto è goal Perché Non posso dire bugie 3 a 2 Non mi arrappo No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Parata Ok 3 a 2 Per Antonio Non dici una parata Eri E' appunto Sono studiato a terra Lì Cosa cazzo devo dire Goal Ragazzi Non aspetta Antonio ritira Perché Non so ma C'è il solo I miei occhi Scusate Sono a te Veno su E' il mastigacchi 3 a 2 4 3 a 2 3 a 1 3 a 1 Ah Anto 3 a 2 Ok Ok c'è il segno pareggiano Parata 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 Ok Ho troppo fatto Ancora perdendo Arriverà 5 Vamos Stiamo 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 3 a 2 Per lui Dai Dai che ce la posso fare Dai che ce la posso fare Ok ragazzi Io ce la posso fare Parata Parata a 2 Mi sa che questa va bene Parata a 2 Stiamo Se lui la prossima segna Insomma Insomma Vince Quindi Se sbaglio E' impossibile Che recupero Allora vabbè Bello ciao Non ci passa Ciao Ok Ok Il segno Ha vinto Più bra Più probabile Scusate se ho perso E' questione Si Aia ragazzi L'ho parata Dove fu pure un crampo Al piede Siamo 4 a 2 Terra Antonio Speriamo Ehi 4 a 3 Ah si si Tanto Se 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 Ciao Buonanotte Fiorelli Fiorelli Oh no No Non ti passa 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 Ok Ok ragazzi Siamo Quattro Cusciate Ok ragazzi Stiamo 4 a 3 Mamma mia Attenzione Alle stelle Che Dio Salve là Domanda E che Dio Senti Lá Ok Siamo Sulla Quarta Molto Alta E Laggione E Lice E Ampè La Coppa Alziamo La Coppa Ampè E Ragazzi Falla Vedere Accordami Ok ragazzi Che dire Per questa Challenge E Questi Spedali Rigori È tutto Dove Faremo Le punizioni Da qua Però voi Non ci sarete Mi spiace Ok ragazzi Che dire Per questo È tutto Facciamo un video Si pubblica Iscrivetevi Però sul suo Canale Con un modo Che conosco Io Antony88 Staccato Google Ok Iscrivetevi al suo Canale Raggiungiamo Per questo Video Massimo 4 5 Mi piace Allora Ragazzi Se raggiungete I 5 Like All'ultimo Mio Video Io Farò Un video Con Thomas Però Giù al Parco Faremo Un Porta A Porta Però Giù al Box Oppure Forse Ok Ragazzi Se raggiungiamo I 5 Like Vabbè Mi fai Finire Ok Per questo Mi piace Guarda Ragazzi Non me lo faccio A voi Questo è per lui Per Anthony 88 Ha staccato Le gocce Ok Ragazzi Vabbè Ragazzi È bella Alla prossima È bella Ragazzi Sì Alla prossima Il È bella Sì Alla prossima